ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con il ventisesimo episodio della talk season 2 nonché il primo di questo 2020 quindi buon anno ragazzi anche se non è il primo video ufficiale del canale però ragazzi buon anno a tutti buon 2020 allora ragazzi dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio ovviamente vi ho fatto vedere un secondino il tour del mondo di quello che abbiamo fatto praticamente nello scorso anno quindi durante il 2019 ed oggi prima di tutto come potete vedere siamo col ray tracing quindi non so se funziona obs non so se va fluido a me va fluido però su obs ogni tanto tira qualche bottina di lag quindi se vedete non proprio una fluidità eccelsa sapete perché comunque sia ragazzi allora cosa facciamo oggi cosa facciamo oggi oggi ci allontaniamo un pochino dalla nostra base perché andremo a fare una base non base aggiuntiva però questa volta siccome abbiamo fatto nel nether l'abbiamo fatta questa volta ovviamente andiamo a farla nella mesa quindi prima di tutto ci serviranno dei materiali ovviamente comunque potete già vedere l'effetto del ray tracing ragazzi che è spettacolare ovviamente mentre mi prendo i materiali vi ricordo che il server gentilmente offerto da nitrato trovate il loro link qua sotto in descrizione di lasciare subito un mi piace se ancora non l'avete lasciato allora non so quali materiali ci serviranno sicuramente ci servono delle lanterne che ho finito ovviamente però non perdiamoci d'animo perché dovrebbero esserci anche sopra alla base con la neve se non sbaglio andiamo a vedere mentre ragazzi salgo sopra la base di montagna volevo anche aggiornarvi su una cosa che non ho fatto in live ovvero l'ho fatta off camera perché tanto è una struttura totalmente randomica adesso vi faccio vedere di cosa parlando se riesco ad arrivare sopra perfetto praticamente off camera un giorno mi sono messo a costruire un'ulteriore struttura qua sopra ovvero questa qua che è praticamente incastonata all'interno delle altre cos'è sono ragazzi dei semplici appartamenti dove ovviamente se qualcuno vuole soggiornare qua può farlo tranquillamente almeno abbiamo a disposizione anche dei letti sia sotto sia ovviamente se riesco sia ovviamente sopra ho deciso di fare due entrate separate almeno detto questo allora prendiamoci i nostri materiali nel magazzino qua sopra perché mi ero fatto un pochino di legno l'avevo lasciato qua sopra quindi prendiamocelo instant eccolo qua ovviamente ci servirà quello di oak e basta da quel che ho in mente perché ovviamente ragazzi come ben sapete io improvviso e basta perché stone brick non ci servono visto che probabilmente utilizzeremo soltanto l'argilla che troveremo nella mesa e adesso possiamo tranquillamente tornare giù verso la nostra base perché dobbiamo andare nel nether verso il portale della mesa un'altra cosa ragazzi che prima o poi dovremo andare a fare in quest'anno è quello di fixare eh sì allora stavo dicendo è quello di fixare la farm di pollia automatica perché come potete vedere non ci dà carne nel senso non ce la dà proprio e questo è un bel problema quindi dovremmo assolutamente fixarla comunque andiamo nel nether direi di andare e ci dirigiamo verso la nostra base nella mesa il lama è sempre qua perfetto allora base nella mesa che dovrebbe essere se non sbaglio subito davanti a noi quindi dovrebbe esserci un ponte ovviamente non pericoloso assolutamente e poi dovremmo essere arrivati dio mio madonna di dio ecco perché avevo fatto il muro e però non vedo niente mio dio è prima o poi ragazzi dovremmo fixare anche tutti questi punti perché sono la morte quindi dobbiamo assolutamente fixarli eccolo la perfetto ora io spero che quello sia il portale della perché sono andato totalmente a random quindi se che cazzo cosa cosa è successo no 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 fermi esploso il portale ma adesso non nemmeno l'accerino ma porca ma che sono tornato con l'accerino e sto ancora mi sto ancora chiedendo cosa è successo cioè succede di nuovo vabbè non è la mesa questa o sbaglio no ragazzi cos'è successo si è buggato di nuovo il portale camado dai ma si è buggato di nuovo ma non ci posso credere ma dove siamo qua c'è qualcosa che non funziona ora ogni volta mi si bugga il portale io però non voglio bestemmiare cos'è questo siamo alla base di gabbro guarda che che cazzo cazzo vuoi non rompermi i coglioni dai ma siamo alla base di gabbro ma non ci posso credere gabbro porca ma perché si gliccia cioè non è colpa tua è però che palle si gliccia siamo a due milioni di blocchi e si gliccia tutto e niente non ok adesso che abbiamo dormito possiamo tornare indietro però ovviamente c'è un problema perché stavo dicendo ragazzi c'è un problema perché non so come fare ad andare la mesa adesso visto che probabilmente da quel che vedo non abbiamo più il portale funzionante di nuovo tanto per cambiare quindi non mi rimane altro che andarci indovinate un po' esattamente a piedi stavo dicendo quindi è vado ok allora il portale la adesso prima di tornare indietro ovvero prima di entrare nel portale facciamo la nostra base perché sennò qua e si bugga di nuovo lo so già quindi si facciamo la nostra base allora come ho intenzione di farlo dopo ben 12 minuti di registrazione possiamo iniziare credibile anche se voi probabilmente avete visto un taglio gigante allora come la vorrei fare sicuramente vorrei fare una cosa simile a quella dei villaggi o dei villager che c'è laggiù quindi sicuramente ci servirà dell'argilla arancione o almeno potrei farla anche rossa effettivamente però ci starebbe male con ci starebbe male stavo dicendo con il legno di quercia quindi mi vado a prendere un po di argilla arancione che dovrebbe essere qui esattamente me ne prendo un pochino appena ne ho presa un po ovviamente iniziamo sono dimenticato le lanterne dio santissimo vabbè ragazzi scialla faremo senza faremo con le torce faremo ovviamente ragazzi la mesa la utilizzeremo principalmente per prendere materiali come l'argilla in questo caso visto che probabilmente ci serviranno andando avanti quest'anno con la serie quindi è sempre utile averci una base di appoggio perché comunque qua non abbiamo niente abbiamo solo un portale e quindi sì meglio averci una base intorno adesso quanto sono sono a 62 potrei già iniziare a fare una bozza anche perché non vorrei farla troppo grande come base ce l'ho del vetro sono un cretino non ho preso niente ma sono uno stupido comunque ragazzi stavo dicendo sì ci serve una base d'appoggio e quindi se costruiamo una piccola base non deve essere gigante non deve essere quindi iniziamo allora mi sono preso un po di argilla me ne sono preso una stack e 29 non so se bastano però ce lo faremo bastare ce la faremo allora ho deciso di utilizzare quell'arancione di colore perché ci sta meglio con l'hawk o almeno io la penso così poi ovviamente voi siete liberi di pensare come volete adesso l'unica l'unica inculata è che non si possono fare gli scalini di argilla ovviamente quindi noi ci facciamo gli scalini di oak planks in questo modo perfetto e possiamo tranquillamente iniziare ora il portale io non vorrei farlo dentro la casa quindi la casetta la farei tipo qua sopra o almeno fatemi pensare ma qua c'è una grotta quasi quasi ho frutto questa grotta questa crotta questa grotta per fare appunto la casa quindi direi di fare tanto dei piloni in questo modo alti 3 sì ok direi che come larghezza ci sia troppo grande era troppo grande effettivamente come larghezza direi che più o meno ci siamo solo che ora che ci penso effettivamente l'arancione non ci sta proprio benissimo però vedremo un pochino come fare ora ovviamente dobbiamo fare prima qua dentro l'interno sto morendo bisogna fare prima l'interno per farlo un minimo preciso quindi magari facciamo l'uguale ambo i lati uff me la prendi non ho spazio stavo dicendo cerchiamo di fare tutto uguale quindi l'entrata facciamola almeno quella simmetrica almeno quella non chiedo molto perfetto direi che così già non ci sta perché ovviamente è tutto sbagliato queste grotte ragazzi mandano in crisi per farle tutte tutte simmetriche quindi 111 ok così va bene così va perfetto allora l'entrata ce l'abbiamo più o meno sì ce l'abbiamo adesso continuiamo a fare un secondo qua un pochino in altezza perché ovviamente deve avere un po di rilievo questa base troppo troppo alto e niente ok e adesso facciamo una roba del genere vorrei farci anche un piccolo piano sopra molto easy non deve essere gigante quindi vediamo un pochino se riesco a fare le cose fatte bene anche se essendo tutto angolato mi trigger il cervello ovviamente quindi speriamo ok direi che come piano superiore ci può anche stare non deve essere gigante come ho detto e cominciamo a fare il nostro bordino con l'argilla arancione che abbiamo messo prima ora non so se utilizzare allora sopra l'arancione quasi sicuramente sotto non lo so allora intanto vorrei fare una prova per vedere se da qua sotto ci passo sì 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 ci passo ci passo perfetto perfetto allora qua ci sarà l'entrata quindi l'entrata la facciamo esattamente non qua la facciamo qua direi qui almeno viene un pochino simmetrico tra virgolette qua possiamo spaccare adesso circondiamo le pareti che non ci interessano con l'argilla arancione quindi in questo modo qua volendo potrei fare una cosa figa ovvero 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 tirare un pillar di legno in questo modo anche se dopo sotto si vede brutto però tranquilli che ho la soluzione adesso vi faccio vedere praticamente qua sotto invece che questo qui andiamo alla crafting table e ce ne craftiamo uno con tutta la corteccia quindi dovrebbe essere in questo modo esattamente perfetto e così lo possiamo mettere tranquillamente qua sotto e diciamo che si nota da anche un fastidio boia però almeno troppo fastidioso vediamo un po ti prego non dimmi che è un trigger mentale ok no va bene ci sta ci sta perfetto ora le nostre finestre ovviamente non le abbiamo però dopo andiamo a prendere il vetro non vi preoccupate per il tetto per il tetto io non saprei intanto qua facciamo così facciamo qua no anzi le facciamo alte due le finestre questa volta almeno c'è un pochino più di luce per il tetto ragazzi io non saprei a dirvela tutta volevo farlo con gli slab di legno però non ne sono sicuro facendola così come viene viene brutta mio dio è inguardabile ok sì probabilmente ci stanno bene gli slab di legno quindi ce li facciamo istasubito allora facciamoci i nostri slab ne facciamo un bel po perché probabilmente ce ne serviranno parecchi facciamone una sessantina bastano e cominciamo a circondare il tetto con queste ora io non so come viene qua viene orribile però anzi no dai non male non male ovviamente è un po diversa rispetto allo stile che abbiamo alla base ma è normale perché qua ragazzi siamo nel deserto insomma è anche normale ora qua però vorrei spaccare non ho un letto madonna santissima vabbè ci sono i villager parkour e niente devo salire qua sopra per fare il tetto ok sbagliato sono un disastro ok stavamo dicendo lo facciamo tutto pari o un pochino rialzato no forse tutto pari mi piace di più effettivamente sì dai lasciamolo così che tanto deve essere molto easy anche perché qua ragazzi ci verremo pochissime volte praticamente quindi lo lasciamo in questo modo ed anzi facciamo una cosa riprendiamo lo stile che abbiamo nella nostra base secondo me ci può stare quindi in questo modo secondo me ci sta anche se sapete che forse a questo punto io farei una cosa del genere ovvero spaccherei questo e qua sopra ci metterei tutto il legno in questo modo e se faccio vedere il tramonto sta arrivando mentre noi siamo indietro quindi probabilmente adesso vi farò un taglio vado a dormire dei villager e poi torniamo per farvi vedere un pochino intanto il piano sopra perché ovviamente prima facciamo quello e poi facciamo ovviamente anche il piano sotto perché aspettate che qua però sono un po in crisi dovrei far così agli angoli giusto dobbiamo fare anche il piano di sotto perché ovviamente soltanto il piano sopra è piccola quindi se mentre si cuoce il vetro e sono andato a dormire metto i bottoni qua come abbiamo fatto appunto nella nostra base ho sbagliato così perfetto da un pochino di rilievo in questo modo perfetto ok poi mettiamo come pavimento come pavimento potrei mettere il legno effettivamente potrei però qua sotto dopo si vede e vabbè allora mettiamo l'argile arancione tutto arancione ragazzi che vi devo dire tutto arancione in questo modo per forza perché sennò si vede sotto ragazzi argile arancione everywhere qua però il legno ragazzi qua ce lo mettiamo si vede sotto niente arancione anche qua perfetto si mettiamoci una porta mettiamoci dove le ho messe le ricraftiamo ovviamente ce ne serve soltanto una perfetto qua sopra ci mettiamo uno scalino ci mettiamo almeno la porta è un piga in questo modo perfetto e vediamo un po' quanto vetro siamo 10 direi che bastano e poi ci dobbiamo fare le lastre per metterle sopra dobbiamo farci quindi eh vabbè ce lo lasciamo grigio ce lo lasciamo allora craftiamoci dei pannelli scusate di vetro vediamo un po' quanti ce ne dà 16 non basteranno mai non basteranno però intanto ce li faremo bastare quindi pannelli di vetro di regola ci bastano 2 4 6 precisi che culo non ci credo di qua non li ho messi però mi sa ma non li ho messi ovunque mi sono un mago che storia perfetto e ci sta ora però l'interno è un po' un problema perché non penso di avere della lana e dove dov'è che muore ciao e allora non penso di avere della lana purtroppo quindi la vedo un po' dura però nel mentre ma quanto vuoi morire grazie allora ci servono delle casse ci servono adesso vi faccio vedere anche il perché ovviamente ragazzi un pochino di arredamento ci va messo devo craftarmi anche un pochino di legno di nuovo così possiamo unirli perfetto allora facciamoci delle trapdoor facciamoci questa volta di oak che tanto ci stanno allora scendiamo giù e faccio vedere la mia idea siccome vi avevo detto che sopra la porta era un po' troppo plain io direi di fare così spacchiamo la torcia mettiamoci le trapdoor no non mi piace allora direi di metterle allora le calore facciamoci un calcolo il letto io lo metterei tipo qua quindi le casse le metterei qua ci sta a lato ci mettiamo le trapdoor riesco così perfetto questa la lasciamo un secondo anzi ce ne mettiamo anche un'altra ce ne mettiamo sia qua sia qua perfetto risaliamo sopra e mettiamone ovviamente un pochino anche sopra di casse però devo ricraftarmi altre perché le ho finite ok ne abbiamo 5 di nuovo qua sopra le mettiamo allora fatemi pensare il letto lo mettiamo qua doppio quindi le mettiamo qua così ci sta mi piace mi piace va benissimo così quindi ragazzi allora purtroppo il letto non possiamo farcelo perché qua di pecore io non ne vedo purtroppo o almeno sto zoomando ma non vedo pecore e anzi no probabilmente le andremo a fottere i villager anzi no perché quel villaggio là probabilmente ci serve quindi evitiamo e direi che ci può stare ragazzi non è male quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate abbiamo fatto una cosa un pochino più easy questa volta come base non è molto articolata fede sarà felice di noi prima di terminare ci devo fare un'ultima prova ovvero dove ci porterà il portale del nether né in quello giusto o in un altro lo scopriremo in questo momento quindi prima di terminare torniamo nel nether e vediamo un po dove ci porta questa volta speriamo incrociando le dita no è quello giusto ma allora avevo sbagliato avevo sbagliato io ma vabbè ragazzi allora ci siamo perché lì accanto c'è la strada perfetto ragazzi allora detto questo io vi saluto e vi ringrazio grazie mille per tutto il supporto che ci sta dando in questo periodo mi ricordo di lasciare un bel mi piace se ancora non l'avete lasciato iscrivi al canale se ancora non lo siete iscritti vi ricordo che il server giudicamento offerto da nitrado qua sotto trovate tutti i social noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video una nuova live streaming quando amete tutto bella